Te pare io eh, qua Le telecamere funzionano, magari ci becca qualcuno Vabbè Pericolo non lasciare cassonetti sulla rampa Questa si chiude, ma questa però non ha meccanismo con la molla Quel muletto lì Rampa scivolosa Dobbiamo portare fuori per scavalcare là E qual'è il problema qua allora Niente Niente C'è una cosa lì sopra Oh strano perché sembra che si possa salire in qualche modo ma non saprei per cosa C'è un tubo lì Come vai a salire lì sopra? Ho la rampa scivolosa? Ok Questa non funziona Possiamo costruire adesso il coso? Si Come a far poco casino Vieni giuro vuol stare la luce Ah ok si Ok Sì Ok No L'hanno ripetuto tutte le salse Attenzione, lampa scivolosa Cos'è stato? Ok Qualche bomba, no? Apriamo anche se Non serve a niente Non credo che torneremo mai Entrata est Ah schi cazzi, pensavo fosse questo Sembrava più vicino E io ero preoccupato Ma era in fondo Vediamo che cosa prezioso Ha scritto nel diario Credo sia questo Trova il grande cartello rosso Vabbè Questo è il centro di conferenze Per fortuna rompere i vetri Non consuma La resistenza dell'arma Allora, lì sopra Mi sembra che non si possa Salire qua Cosa serve? In realtà No dobbiamo scendere Ma non Ma non di lì Ma sono Lo stesso di un chart Anche quello Bella Dove è che non Che non c'era niente Se non sbaglio, no? Io volevo saltare Su quella piattaforma là Oppure Passare sotto qua Ci passa sotto qua Ok 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 tutto chiudo A parte che se vuole ti fa trovare lo stesso, acqua stagnante eccetera eccetera. Niente, uno eh? Ma che ne sai te di cosa è successo? Niente, questo non si apre, no. Ma non ho capito cos'è stato. Perché non si dà niente? Brutta storia. C'era una porta di là. Ho aspettato andare perché pensavo che mai fosse questa la strada secondaria, però mi sta venendo un dubbio. Ok, si può stare lì. Allora andiamo a vedere che cosa c'era di là. Ma non mi interessa, dai che cos'è. Sentiamo. Ah, davvero. Vediamo qua. Bloccata. Io pensavo che questa qui uscisse sul giardino e quindi fosse la strada giusta. Non so, bo, usiamo. Oh, no. Arch Enemy Un peccato che possiamo portare solo una bottiglia Qui niente Ma lì c'è la molla di ritorno Qui non c'era niente Vabbè, sappiamo che succederà qualcosa probabilmente di qua Vediamo Ok, ci sta facendo incontrare Ci sta facendo incontrare gli altri Però non mi ricordo più questi cosa facevo Non c'è niente Prima fanno guardare Già ti la mente Allora la uno Perché si è spostato, stronzo Allora Ma c'è io La miseria Che danno mi ha fatto Boh Non so se conviene Farsi ammazzare Basta Guarda che se Passa il checkpoint Due minuti Non so Qui è una zona abbastanza ampia Magari c'è un po' di roba da raccogliere Quindi serve anche da farli fuori Questi qua Quindi lui ci aveva sconto due minuti Dovevo schivare Vabbè, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Ciò green 7 Cibra Già N 6 7 7 7 7 8 1 8 8 E' morto? Sì. Mi dovrebbe usare questo per essere più sicuro di avere una rosa di impatto. No. Ecco qua l'altro. Ci ha provato, Etofani, provare uno sprecato, ma ce n'è ancora un altro che sta arrivando. Ma quanti cazzo siete? Mi fanno specchiare troppe risorse questi qua. E' il fatto che è difficile fermarle. Vediamo se è l'ultimo questo. Buonissimo. Quanti cazzo. C'è ancora uno almeno. C'è ancora uno almeno. Dove ci ha fatto uno partire? Anche più avanti. Cioè non posso specchiare tutte le risorse. Eh infatti, guarda qua. Cosa facciamo? Mi ha fatto consumare, sennò devo riavviare lo scontro tre minuti fa, dice. Cioè c'è dato buono quello che ho eliminato almeno, sennò cavolo. Cioè c'è troppa gente qua. C'è un cavolo di bottiglia, mattone. E anche qua me l'ha dato buono che abbiamo raccolto qua. E' un'unico. E' un'unico. E' un'unico. E' un'unico. Capito Adoro Ma muore o no? Cazzo Abbassato uno, si ma siamo morti Vai fuori Sarà anche andata ma Tutto la roba che c'è dentro Tutto la roba che abbiamo consumato Ma secondo me è impossibile da fare quella cosa qua E' stato il checkpoint Sì, probabilmente si Oh evidentemente Ti stai curando Evidentemente non andranno a far così Perché boh Si è tentato di rientrare Ma non credo che si ne siano andati Proviamo Fatti Boh Che poi è strano Perché non escono fuori Vabbè, lasciamo stare Le risorse che ho consumato Le risorse che riguadagno Mi sa che più o meno Ecco Ecco l'ospedale Ci sono quasi Beh Non è proprio Attaccato eh Cosa vuole che faccio? Salto fino Ah vabbè, qua Mh 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 Eh Devo rientrare Eh Ho capito ma Solita situazione Mi sembra già Mi è sembrato già di sentire Ok Devo tornare in strada Non sono più loro Non sono più loro Non sono più loro Che Non sono più loro Non è più È Ah! 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 Hm. Ah! ¿Me senti? Cliccare di Anna, mi senti? Entri da lì almeno? Faffa... Bagno. No, non era quello che dovevo fare. Questo, questo. Ma questo posso recuperare o esplodo insieme? Esplodo anch'io? No, ok me la fanno recuperare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bo C'è non abbiamo più niente C'è non Andiamo, sforzano i tempo, pure. Ok, ora viene da. Lascia mierder! I più stronzi del terro gioco sono questi Basta adesso però è un po' di risorse Odio Seattle Niente, aspetta Ci può andare solo lì? Mi sa di sì perché lì non credo che riusciamo a salire Ha Se entro in acqua qua? Niente 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 Ora è sorpresa nell'acqua Altri Versace, io sento Ok, adesso siamo qua Forse bisogna salire lì sopra Comunque come cavolo siamo messi malissimo Settantasei Beh Andiamo di qua Ah no, ma prima c'è questo, cavolo 40, 30, 40 Vabbè Vabbè Come no, mi sembra anche doveva salire qua Ok, adesso sale E' un scivola sul muschio E' un scivola sul muschio Mh Niente Mh 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 Vabbè Andiamo su Tira Tiratemi fuori da qui Ok Dove cazzo sono finita? Mh Allora Niente, niente, niente Vabbè Siete gentili ma mi sono il proiettile a me Neanche secondo me questa cosa Niente Vabbè Vabbè Qui va bene un attimo per così sale ok sale ma non c'è niente ok io sono qui e l'ospedale è là tagliamo dal parco c'è una foresta più che un parco niente diciamo che in effetti la telecamera è forse un po' un po' ridosso in realtà si può modificare però è un po' ma la trovo un po' appiccicata secondo me questa interfaccia schermo così non ho letto ma mi sa che è il contrario incrementa il valore per ampliare il campo visivo allo provano dieci ma vabbè tu cerchi sempre negli angolini ma puoi c'è qualche nemico e sta comunicando tra di loro questo è un po' che mi fa c'è un po' che mi fa